Scendono ancora i casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità RT in Italia. Nel periodo tra il 27 luglio ed il 9 agosto 2022, l'RT medio calcolato sui casi sintomatici è in diminuzione. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore della Sanità e il Ministero della Salute. In calo è il tasso di occupazione in terapia intensiva, che passa dal 3,2% al 2,7%. Il tasso di occupazione in area medica a livello nazionale scende all'11% rispetto al 13% della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è stabile. Stabile la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, come anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening.